Però questo tema appunto, arriviamo ad un altro tema, abbiamo parlato anche ieri sera perché è passata la presentazione del mio libro e ne abbiamo parlato. I pregiudizi ma anche le cose usate per screditare l'avversario. Lei ha parlato anche del fatto che si è detto in giro che lei era omosessuale, che aveva uno staff fatto tutto di omosessuali. La cosa che mi ha un po' colpito è che quando lei questa cosa l'ha detta l'altra sera qui sulla 7 a 8 e mezza, adesso poi la critica è ma come Di Maio dice che è un insulto essere omosessuale, quindi che vuol dire? E' un po' complicato perché lei dice, infatti vedi c'è il fatto che stamattina lo dice al bio, è gay, è omofobo, non si capisce come ne deve uscire da sta storia. Spieghiamola bene. Spieghiamo prima di tutto che non può essere un'offesa sentirsi dare dell'omosessuale. Io non mi sento offeso, semplicemente ho detto una notizia non vera perché io sono etrosessuale e felicemente fidanzato. Però in questi anni di politica alcuni miei oppositori, alcune parti politiche hanno utilizzato il termine omosessuale nei miei confronti con un tono e un significato negativo, dispregiativo e denigratorio. Era tono e significato che attribuivano loro a quel termine che era inaccettabile. E quando una parte politica utilizza poi il tono sbagliato per definire un altro omosessuale, sta stravolgendo il modello culturale nel nostro paese perché la politica deve dare l'esempio. Ed è per questo che noi abbiamo sostenuto il DDL Zano, perché questo è un paese in cui ancora nel 2021, se sei omosessuale, puoi essere insultato ma anche picchiato. E, dico un'altra cosa, questo vale anche per le donne. Cioè non è normale che la settimana scorsa abbiamo approvato nel 2021 alla Camera la legge sulla parità salariale perché nel 2021 dobbiamo fare ancora una legge per stabilire le donne, devono avere lo stesso stipendio degli uomini. Lei lo sa bene, ne ha scritto nel nuovo libro e si è sempre battuta per i diritti delle donne. Ci sono ancora molte cose da fare nel mondo delle donne, molte, molte più di quello che immaginiamo. Ecco, per vedere la nuova realtà attorno a noi. Sta entrando Gianni Letto.